Non c'è altro che vorrei rincontrare gli occhi tuoi Cancellarmi e rinascere ovunque sei Ti mancherà la mia complicità ovunque sei Buongiorno a tutti Un semplissimo saluto Un ringrazio di questo canzetto 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 queste bambini e solo trovavano la loro volta. Noi, attraverso questi progetti, abbiamo già portato i bambini, questi dieci anni che va, per la provincia di Tassi, la provincia, siamo veramente coniusi, anche perché attraverso questo soggiorno, questa accoglienza che è stata data, sicuramente circa 21 bambini, questi sono veramente figli, sono stati definitivamente per la nostra famiglia. Passare a portare saluto al vostro Presidente, che ha ricevuto stasera la nostra donna di Pianocchia, sicuramente roba di Pianocchia. Vi ringrazio. Grazie a tutti di essere venuti, grazie a tutti, anche io mi sconcio in maniera a parlare l'inganziamento di Pianocchia. Io ho scoperto il mio discorso maggiormente sulla Osta. Perché quest'anno abbiamo voluto che si potesse realizzare questa a questa parte? Per due motivi principali. Allora, il motivo principale, il primo motivo principale, quello che purtroppo della tragedia di Pianocchia, se ne parla moltissimo, nel senso che sono passati 21 anni, l'anno scorso che si è detto qualcosa, purtroppo ora, ritorna il dimenticatorio sociale. E due, perché attraverso l'articolo, attraverso il linguaggio dell'articolo, noi siamo certi che si possa interiorizzare fortemente quella che è la connessione tra la tragedia di Pianocchia e la Pianocchia. Molto spesso un operatore, credo che queste operatore mi abbiano scosso, perché questo è il senso della nostra cosa che vogliamo raggiungere, riescono a trasmettere quello dell'avvento umano che entra nei nostri cuori, che entra nei nostri pensieri, che ci consente di avere un'attenzione particolare nei confronti di questi bambini ucraini, ma chiaramente l'attenzione non sarà rivolta sulla porta dei bambini ucraini, sarà rivolta per i bambini, perché una persona attenta ai bambini ucraini, una persona attenta ai bambini ucraini, quindi questo è tutto di Gesù. Quindi, da parte mia, un grazie di cuore che ci hanno sostenuto in questa iniziativa. Io, non vi nascondo che sono un po' terrorizzato a questo successo, perché non pensavo veramente a noi potessimo ricevere questi quadri così tanti quadri, così tanti quadri. Nel senso che avevo scritto degli articoli dove lanciavano questo appello di pitture di Pugliesi, perché ci mandassero dei quadri, come dicevo, mettessero l'azione e la pagina di Cernodini e i bambini, e ci sono arrivati tutti questi quadri. E chiaramente noi, con l'aiuto anche delle istituzioni e della scuola, vedo presente la dottoressa Pugliese, la dottoressa Pugliese, la dottoressa Pugliese, quindi noi proprio chiediamo alle scuole, non solo di Pugliese, ma tutte le scuole, di ospitare questa mostra. Ora facendo la parola alla specialenza di Pugliese. La mia presenza vuole sottolineare l'attenzione di tutta la Chiesa Pugliese sana a questa soluzione delle medie, dalla soluzione del cuore, anche a tutte le altre organizzazioni di volontà. Questa soluzione è appunto dieci latini e questo ci dice che...